Allora Stefano, regna a voi una bella atmosfera di giovani ragazzi, di giovani spenserati che vincono le partite praticamente perse e con grande entusiasmo. E perdono quelle praticamente vinte. Allora, sono tutti molto giovani a parte me, questo è importante anche sottolinearlo, credo che... Alzi la media. La forza della reazione è stata quella per l'appunto il gruppo, siamo riusciti a trovare dentro di noi le energie e trovare anche giocatori diversi rispetto ad Asciano che sono stati in grado di dare un contributo. La forza di questo gruppo per ora è sicuramente una cosa su cui lavoreremo con il coach, è trovare tutti il modo di dare un contributo. Perché chi gioca a 30 secondi, un secondo, 20 minuti, 15 minuti, deve e può dare un contributo utile per i risultati. Chiaramente il risultato non si chiama, anche se ha fatto 23-24 punti, non si chiama Andrea Bruschi, ma il risultato è il risultato di tutta la squadra, il risultato dell'insieme. E l'entusiasmo che si è creato intorno a questi dieci elementi che vi ha portato a questa vittoria finale. Sicuramente, sicuramente perché ognuno, i 14 punti di Toni vengono fuori anche da alcune zingarate sue, ma da una squadra che l'ha messo in condizione di prendere dei tiri buoni. Lo stesso vale per tutti i ragazzi, da chi ha fatto di più, da chi ha fatto di meno, perché oggi abbiamo avuto compagni di squadra che hanno avuto meno fortuna e che l'altra volta invece sono stati determinanti e che ci hanno portato fino a giocarci da punta a punta. Quindi non c'è qualcuno che può vincere da solo le partite, c'è una squadra che le vince e che può essere anche che le perda. A chi dedichi la vittoria, Stefano? A noi, a tutta la squadra, perché ce lo siamo meritati, ci siamo guardati dopo la sconfitta negli occhi di Asciano. Increduli! Increduli e anche molto innervositi e questo è il modo di reagire e quindi ce lo meritiamo. Un risultato imprevisto, imprevedibile, ma ci speravete fin dall'inizio? Siamo partiti convinti di potercela giocare con una delle squadre favorite del campionato. sapendo di giocare in casa, volevamo fare bene e fare risultato. Abbiamo avuto dei momenti difficili, nel secondo quarto, all'inizio del terzo quarto, ma contro una squadra attrezzata per salire è normale. Siamo stati bravi di gruppo a rimanere lì con la testa, a cercare di fare le nostre cosine fatte bene e quando poi abbiamo preso fiducia la squadra è andata molto bene. Quindi praticamente c'è da limare l'insieme più che altro dal punto di vista caratteriale oppure c'è da ritoccare ancora fisicamente i ragazzi negli allenamenti, nelle sedute d'allenamento? Entrambi, caratterialmente anche perché siamo una squadra di base molto giovane. Anche Mionti è stato uno dei nostri protagonisti e ha un 2002, abbiamo un 2003, 2004, è sceso anche Marco Antoni che è un 2005. Quindi siamo ancora giovani e caratterialmente abbiamo bisogno di migliorare. A livello fisico sì, c'è da ritoccare perché è un insieme, abbiamo bisogno di abituarci anche al campionato, al contatto continuo, a qualche contatto eccessivo rispetto a altre categorie come può essere anche un under 18 o una serie C. Grazie Grazie